Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura torniamo a parlare dell'alluvione in Emilia Romagna. Ci sono anche vigili del fuoco aretini tra i 600 pompieri provenienti da tutta Italia che nelle scorse ore hanno raggiunto le zone alluvionate. Ci sono vigili del fuoco anche toscani nei 600, vigili del fuoco provenienti da tutta Italia che nelle scorse ore hanno raggiunto le zone alluvionate di Emilia Romagna e Marche. Alcuni esperti proprio in tecniche fluviali che quindi si sono impegnati nei soccorsi a persona. Questa è una storia di un vigile del fuoco toscano che ci racconta il salvataggio di una coppia di anziani. Sì, diciamo che siamo presenti come sezione operativa toscana perché lavoriamo come direzione regionale perché probabilmente siamo tutti i comandi uniti della Toscana in questa sezione operativa. In specifico noi dalla Toscana siamo intervenuti per soccorso a persona perché diciamo con le nostre specializzazioni con tecniche spero alpinistiche fluviali appunto abbiamo gommoni e quindi di conseguenza attrezzature per poter intervenire in questi soccorsi in specifico. La Toscana in questo momento è presente per soccorso a persona e non magari come in futuro potrebbe essere per recupero beni, svuotamenti di case, scantinate e quant'altro. Nella prima fase interveniamo sulle persone ovviamente. Il primo intervento rimane sempre, sono stati una coppia di anziani molto lontani che dovevamo raggiungerli con anfibio però poi ieri sera abbiamo deciso di provare con gommone a rafting a remi ci abbiamo messo circa 40 minuti, 50 per raggiungerli e l'abbiamo trovati che ci aspettavano una finestra. Sul fronte della viabilità la limitazione del traffico sul tratto toscano della E45 in particolare il blocco ai mezzi pesanti in ingresso da Sansepolcro Sud nell'Aretino rimarrà in vigore fino a venerdì alle 12. È stato deciso in un vertice congiunto delle prefetture di Arezzo e Forlì Cesena. Le condizioni delle arterie dovute proprio agli allagamenti e alle frane di queste ore hanno fatto propendere per questa decisione necessaria anche e soprattutto per consentire le operazioni di soccorso alle popolazioni alluvionate. Il personale Anas si trova sul posto per dare le corrette indicazioni ai mezzi pesanti è stata comunque garantita la percorrenza fino all'uscita di Pieve e Santo Stefano Sud della E45. Ci spostiamo adesso a Cortona dove un padre difende la figlia finita in ospedale in codice rosa dopo una lite con il compagno ma è stato denunciato dai carabinieri però messa a denuncia di una pistola beretta. I militari sono infatti intervenuti per sedare una lite tra i due uomini. Una volta arrivati sul posto li hanno fermati ed il padre ha spiegato che la figlia era finita in ospedale. I militari però nel corso dei controlli hanno trovato la pistola non denunciata per il pensionato e così scattata la segnalazione alla procura di Arezzo. Ed ancora cronaca, un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina nel centro storico di Castiglion Fiorentino pochi minuti prima delle nove. Un uomo di 49 anni, operaio di una ditta edile di Monte San Savino è caduto da alcuni metri di altezza mentre stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione nel cantiere di un privato in via Dante ed è rimasto ferito. Sul posto i sanitari dell'emergenza urgenza e in volo anche l'elisoccorso Pegaso che ha portato l'uomo alle scotte di Siena in codice giallo per politrauma. A seguito dell'accaduto è stata avviata anche un'indagine per ricostruire con esattezza quanto successo. E proprio di sicurezza sui luoghi di lavoro si è parlato questa mattina Litis Galileo Galilei di Arezzo grazie ad un'iniziativa di Ammil. Prendo e vado al dispositivo, giro in modo che faccio aprire i sportelli con questa chiave, faccio aprire i sportelli. Mentre che sto lì per controllare e per ripararla, che cosa succede? Questa macchina io non la so, parte e va in moto e a me la manica della tuta me la tira dentro e, disgraziatamente, me la macchina. Spero, mi ricordo soltanto che mi trovo dentro una macchina che mi stanno portando all'ospedale. Gli studenti dell'ITIS di Arezzo ascoltano le testimonianze degli invalidi sul lavoro. Oggi in calendario due gli incontri in collaborazione con Ammil, affinché il concetto di sicurezza sui luoghi di lavoro e non solo arrivi forte e chiaro alle nuove generazioni che stanno per affacciarsi al mondo del lavoro. L'infortunio non succede solo all'infortunato. L'infortunio succede a tutti, a tutto l'ambito familiare, a tutti gli amici. Dei bimbi piccoli che non vedono più ritornare un genitore, purtroppo dei genitori che non vedono tornare dei figli, è ancora peggio. Quindi deve essere veramente, noi cerchiamo in questi incontri, e ringrazio il dirigente Decembre che ci ha invitato a questa scuola e speriamo anche di farne più di incontri anche nei prossimi anni, è quello che vogliamo far capire. I ragazzi devono essere i padroni di loro stessi e soprattutto della loro sicurezza. Si tratta di rendere i ragazzi responsabili e fargli capire che la sicurezza è un carico di responsabilità che va a ciascuna persona. Deve essere una conoscenza, un valore diffuso e tutti devono attenzionare adeguatamente questo aspetto che è fondamentale, proprio per ridurre, si spera portare a zero, le morti bianche e gli infortuni sul lavoro. Purtroppo sono ancora cronaca, tristemente attuale, ma bisogna partire dall'educazione nelle scuole per far sì che si vada a calare in questo senso. Complice la pandemia e la crisi economica è sempre più difficile mantenere alti livelli di sicurezza sul lavoro. Nel 2023 per adesso non ci sono stati morti, per fortuna, sul lavoro né l'Aretino, ma dall'ANMIL arriva un appello. So che è scomodo e so che alcune volte è difficile, ma realmente il lavoratore alcune volte dovrebbe essere in grado di dire di no. Dire io questa cosa in questa maniera non la faccio. Non la faccio perché so che il macchinario non ha norma, perché so che l'imbragatura per andare sopra un'impalcatura non è a norma, so che è stata montata in tempi brevi. Deve essere in grado di fare questo. In confronto all'anno scorso diciamo che quest'anno non ci sono state vittime nel retino e quindi questo già tra virgolette è una vittoria, però non dobbiamo mai abbassare la guardia perché veramente in un secondo cambia la vita, cambia la vita della persona e di chi sta intorno, veramente. Torniamo adesso a parlare di Piazza della Badia, ad intervenire sul tema adesso un esperto di sicurezza privata, Alessandro Rossi. È chiaro che dovrebbe essere potenziato un sistema di prevenzione, un sistema di prevenzione che possa dare ai giovani un messaggio utile. Alessandro Rossi, esperto in materia di sicurezza privata, esprime la sua opinione in merito ai fatti di Piazza della Badia e dalla parte di chi con la Movida ci lavora non ci sta a criminalizzare un intero settore. Non mi piace la parola ma la Movida perché la Movida serale e notturna è anche fonte di guadagno per tanti esercenti e poi di aggregazione e di vicinanza per i giovani. Se non c'è una conoscenza capillare della piazza, della popolazione che la frequenta e delle strutture che la circondano, diciamo che possono essere fatti interventi approssimativi. Ora, io non voglio dire che le piazze sono come i locali notturni e vanno gestite in uguale maniera, ma andrebbe messo in atto un sistema capillare di controllo. Educati in maniera giusta, ma per educati non significa metterli a scuola, ma controllati da personale che sia idoneo e comprenda quelle che sono veramente le criticità e prevengano certe situazioni in base alla loro esperienza. Importante è anche l'atteggiamento da parte della sicurezza privata. Insomma, un vecchio adagio, prevenire è meglio che curare. A volte il tuo atteggiamento, la tua impostazione può creare un'ulteriore problematica. Quindi l'importante è comprendere e capire chi hai davanti, prevenire le situazioni, perché non avvengono all'improvviso, ma c'è dei sentori precedenti e quindi sta all'operatore riuscire a intuire e capire e andare subito, prima che accada qualcosa, a pianificare anche una tranquilla prosecuzione di quello che è, sia il concerto che qualsiasi altra manifestazione. E questo lo trovo e lo imposto ai nostri operatori perché i risultati parlano da sé. Quindi possiamo fare chiacchiere di ogni tipo, ma quello che conta poi è il risultato finale. Il risultato c'è e siamo ben contenti. Attualmente siamo anche impegnati a un festival internazionale che è qui nella provincia di una società inglese che è abituata a fare concerti con Elton John e quant'altro e si sono rivolti a noi come fanno anno dopo anno perché hanno trovato questa metodologia nostra operativa vincente e valida. Restiamo nella Centro Storico Aretino. Alla luce delle previsioni meteo, l'amministrazione comunale ha deciso di sospendere anche per questo fine settimana la maxi-area pedonale prevista in alcune vie e piazze del centro, come già avvenuto lo scorso weekend. Dunque invariate circolazione e sosta nelle zone interessate dall'isola pedonale. E adesso torniamo a parlare della E78. Ad intervenire sono alcuni dirigenti di Confartigianato Arezzo che pur sottolineando l'importanza strategica del nuovo tratto evidenziano alcune criticità. Da decenni attendiamo un'opera essenziale per lo sviluppo del nostro territorio per questo accogliamo con favore il fatto che si siano finalmente accesi i motori per la costruzione di un tratto della Due Mari. I dirigenti di Confartigianato, Leonardo Fabbroni e Fabrizio Piervenanzi, presidente del Comitato Intercomunale, non hanno dubbi sull'utilità dell'opera ma chiedono maggiore chiarezza e una riflessione attenta sulla tematica degli espropri. Poche settimane fa, spiegano, cittadini ed imprese sono venuti a conoscenza degli espropri. Sorge però il problema che i tempi a disposizione per presentare le osservazioni risultino molto stringenti, poco più di un mese. Tempo irrisorio, dicono i due dirigenti, per la lettura, la comprensione e le eventuali controproposte dei diretti interessati. Ridurre i tempi per le osservazioni e non dare modo ai cittadini e alle imprese di potersi organizzare fa pensare che la stessa amministrazione, dicono Fabbroni e Piervenanzi, non si aspetti osservazioni o ci sia poca volontà nell'esaminarle. Siamo di fronte ad una situazione che non solo non consentirà ad imprese e cittadini di poter formulare con contezza le proprie osservazioni ma potrà essere persa un'occasione per realizzare in modo efficace e con il minore impatto negativo possibile un'infrastruttura della quale abbiamo tutti assoluto bisogno. Sabato 20 maggio torna la marcia per la pace da Civitella a San Pancrazio che coinvolgerà anche quest'anno gli studenti degli istituti comprensivi scolastici dei due territori e di comuni stragizzanti della Toscana. Sarà dunque l'occasione per costruire una nuova cultura di pace. L'iniziativa Il ricordo delle vittime dell'uccidio nazifascista del 29 giugno 1944 si svolge lungo la strada che collega i luoghi della strage dei due territori comunali per un percorso di circa 9 chilometri. E adesso parliamo di trasporti. Voltiamo pagina ad un mese dall'attivazione del servizio Pay & Go su alcune linee ferroviarie anche a Retina e sempre più viaggiatori scelgono la bigliettazione online. Addio al contante e al biglietto cartaceo. Sempre più viaggiatori scelgono la via del contactless anche sulle linee ferroviarie Arezzo-Sinalunga-Estia. È quanto emerge dai primi dati del trasporto ferroviario toscano del gruppo LFI ad un mese dall'avvio di Pay & Go, il servizio di bigliettazione con pagamento online. L'acquisto dei titoli di viaggio tramite questo sistema è stato subito molto apprezzato dall'utenza anche perché migliora e semplifica l'esperienza di viaggio senza alcun costo aggiuntivo per chi ne usufruisce. Pochi secondi appoggiando la carta di credito sul dispositivo presente in tutte le stazioni si potrà salire a bordo senza fare la fila e senza attendere la stampa del biglietto cartaceo. Un vantaggio per gli utenti ma anche per l'ambiente. Vita dura anche per i furbetti. Ad oggi la percentuale di persone che viaggia senza ticket è di circa il 7%. Vorremmo arrivare ancora a percentuali migliori, spiega Maurizio Seri, presidente di LFI. Stiamo valutando anche l'inserimento del biglietto a validità giornaliera. Raggiungere anche questo obiettivo ci permetterebbe di recuperare risorse significative da investire per offrire alla nostra clientela servizi sempre migliori e di qualità. Al Museo archeologico di Arezzo inaugurate questa mattina le nuove sale che rappresentano un progetto sperimentale. Vediamo di cosa si tratta. Abbiamo cercato di raccontare in un modo nuovo, più contemporaneo, quelli che sono i prodotti forse più caratteristici della nostra città in età antica. Tant'è vero che gli antichi chiamavano questi vasi prodotti nell'Arrezzium di circa 2000 anni fa a retina vasa. I vasi in terra sigillata a retina sono una produzione tipica dell'Arezzo romana attorno all'epoca di Mecenate, adesso protagonisti del nuovo allestimento delle sale del Museo archeologico di Arezzo con 29 vetrine e più di 300 reperti. Avevano un marchio di fabbrica, quindi attraverso questo timbro, questo che possiamo assimilare a un luogo di oggi, possiamo conoscere i nomi di questi imprenditori, quindi Ateius, Perennius, Amurius e tanti altri. Un progetto sperimentale per offrire un percorso di visita con diversi itinerari storici e tematici personalizzabili. Una serie di informazioni e di descrizioni che fanno capire a tutti quanto da Arezzo, nel primo secolo avanti Cristo, a cavallo poi della nascita di Cristo, ci sia stata una produzione che è diventata una sorta di franchising, una sorta di grande spinta propulsiva per l'imprenditoria a retina, dovuta anche al fatto che gli imprenditori a retina si erano assicurati l'appalto per la fornitura agli eserciti romani. C'è poi un cortometraggio animato rivolto al pubblico più giovane, in italiano ed inglese, e sottotitolato per i non udenti. Proprio per raccontare in modo nuovo, in modo anche veramente efficace questa produzione così importante. Questo cortometraggio animato è un cortometraggio di alta qualità, è stato presentato anche all'Archeofilm Festival di Firenze poco tempo fa, è stato molto apprezzato ed è realizzato appunto da tecnici di alto valore. Domenica 21 maggio la Fortezza Medicea di Arezzo ospiterà la prima edizione di Arezzo e le sue vallate, un concorso di pittura estemporanea curato da Maria Angela Baldi ed organizzato dall'Associazione Culturale Arteco con il patrocinio di Regione Toscana, Provincia e Comune di Arezzo, Fondazione Guido d'Arezzo e Zero Spreco. Per un giorno dunque la Fortezza ospiterà artisti da tutta Italia che dipingeranno gli scorci più belli della struttura e i panorami sulla città. Il principale scopo del concorso è infatti quello di valorizzare Arezzo e il suo territorio. Quest'anno poi ci sarà anche un premio dedicato a Piero Franchini. Passiamo adesso alla pagina dello sport, è un giorno di lutto per lo sport aretino ma anche per l'intera città, per la scomparsa del professor Giorgio Cerbai. Per quasi 30 anni il delegato provinciale del CONI, lo ricorda l'amministrazione comunale, al servizio dello sport e dell'associazionismo aretino, ha sostenuto con impegno, generosità, passione e dedizione la sua figura di riferimento non soltanto per le competenze ma altrettanto per la testimonianza convinta di quei valori di realtà e sana competizione che rappresentano l'anima dello sport e che grazie a lui si è legato alla città, alle istituzioni, alla scuola e alle tante realtà associative diverse. Se ne va una figura fortemente rappresentativa e molto stimata ed amata. Ovviamente alla famiglia le condoglianze anche da parte della redazione di Arezzo TV. E adesso passiamo alla calcio. Oggi infatti si è tenuta l'assemblea dei soci dell'Arezzo, a cui è preso parte anche il socio di minoranza Orgoglio Amaranto. Nel corso dell'appuntamento è stata deliberata all'unanimità la trasformazione della società sportiva Arezzo in società responsabilità limitata, un passaggio necessario al fine di procedere con l'iscrizione al prossimo campionato di SEDECI come previsto dalla vigente normativa. E adesso il basket. Sono cinque le squadre della SBA alle finali regionali. La società retina è infatti entrata nella fase conclusiva di una stagione particolarmente positiva per bambini e ragazzi del settore giovanile che dall'Under-13 all'Under-19 sono riusciti a piazzarsi ai vertici dei rispettivi campionati e a restare sin all'ultimo in corsa per i titoli toscani. Per la prima volta in assoluto la SBA può dunque vantare un numero tanto elevato di formazioni nelle fasi finali. Saranno invece otto gli incontri tra professionisti per l'assegnazione dei due titoli italiani della venticinquesima edizione delle Stelle del Ring. La team Aiacchini ha ufficializzato i nomi dei protagonisti del Gran Galà degli Sport di Combattimento che sabato 3 giugno a partire dalle 20.45 farà affidamento sulla presenza di 16 tra i migliori rappresentanti della kickboxing italiana che incroceranno i guantoni in una serata all'insegna dell'adrenalina e dello spettacolo ad ospitare l'evento ancora una volta lo stadio di Capolona. Questa perra e stasera era l'ultima notizia. Vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci. Grazie a tutti.